Il pianeta così bello e unico merita aspetto e cure quotidiane per restare sano e sicuro per tutti. Umani, vegetali, animali ed ecosistemi. Voi, giovani umani, avete due scelte. Continuare a distruggere e sporcare con le emissioni di anidride carbonica e la plastica usa e getta. Oppure, vivere la vita, e non importa quando tu sia grande o piccolo, in modo sostenibile. Voi in bicicletta, in scat, in autobus. Quando esci, portati la borraccia, riempila nelle fontanelle, o chiedi al barista di riempirla. Non usare mai piatti, porchette e cannucce di plastica. Non si possono riciclare né riutilizzare. Spendi tablet, computer e telefonino e non lasciare una luce accesa. Tutto il pianeta dipende dall'acqua. Chiudi il rubinetto mentre ti spazzio la luce. E fai la doccia al posto del bagno. I pomodori o le fragole. In inverno arrivano con i camion o con gli aerei. I pomodori o le fragole. 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 I pomodori o le fragole.